Ciao a tutti e benvenuti nella mia nuova parte della guida di Pokémon White Come ricordate nella precedente parte abbiamo battuto la capopalestra E ora noi ci avventureremo verso la prossima città Siete tutti pronti? Siete collegati qui con Bing e Kino? Bene, perché ora inizieremo L'avventura ha davvero inizio Comunque prima devo portare i miei Pokémon al centro Pokémon I miei Pokémon al centro Pokémon, pure il Primoth Comunque li porto al centro Pokémon E potremo avventurarci finalmente nella prossima città Verso la quinta medaglia Conquistando quindi la quinta medaglia Potremmo essere vicini a Zekro E quindi vicino a Zekro e quindi vicino alla Lega Finendo così temporalmente la guida Ora entrerò nel centro Pokémon Ecco, sono appena uscito dal centro Pokémon Ho curato i miei Pokémon E possiamo continuare l'avventura Verso una nuova città Non vedo l'ora Continuare Sembra che si prende di qui Infatti è proprio di qui che prenderemo Per andare nella nuova città Yeah Continuiamo l'avventura La nostra amica Lo sapevo che sarebbe successo Che ci interrompe sempre E io non la sopporto più a questa Questa, come si dice, cretina Comunque, a parte lo scherzo Continuiamo Ora mi farà vedere Dove ci sono le gare Pokémon Mi sembra che dove ci vanno a vedere le gare Pokémon Ho pure un'altra cretinata simile L'interno sembra quello delle gare Pokémon Ma comunque Continuiamo C'è questo vecchietto qui Vediamo cosa vuole Mi sembra che mi darà una scatola C'è la scatola chic Infatti Eccola qui Comunque ragazzi Io vi prometto Che ogni giorno pubblicherò Da 3 a 5 video ragazzi Ve lo prometto Questa è la parola di Vincanchina Vuole pure che l'addobbo Che sta venendo carino Questa è la parola di Questa è la parola di Dai, faccio questo favore a voi Ecco, finite di parlare Ora c'è un'altra pallatina Comunque vi accorcio anche questa Faccio così vai Ragazzi, vi ho risparmiato un bel po' di parlata E ora con la bici Continueremo il nostro viaggio Come viaggio detto Vi prometto sicuramente che pubblicherò da 3 a 5 parti Ogni parte di questa Durerà tanto Da Circa 10 A 15 minuti Scontro con il rivale Ecco qui Scontro con il rivale Scontro con il rivale Scontro con il rivale Scontro con il rivale Scusate Questo malinteso Scusate se Comunque continuiamo Scusate per mai c'è il logo Combinato per adesso Comunque continuiamo Lasciamo aperte C'è la prossima volta Continuiamo Scusate Ecco, ho battuto Continuiamo Ecco qui la mia amichetta Diamoci uno schiaffo Usa baccacidro Usa una specie di focale energia Forse pure focale energia Ma non so Andiamoci un altro schiaffeggio Non me la fa usare Non so perché Dobbiamo Lo so che non gli leverà Niente Secondo me L'ho battuta Ecco qua Il terzo bocone del nostro rivale Attaccherò L'attacco più potente Che per adesso Al mio pokemon Non me la fa Non me la fa nemmeno usare Tutti gli attacchi Mi stanno mangiando Uso ruota fuoco Uso ruota fuoco Almeno questo Credo che ce la possa fare Manca l'ultimo Ecco che attacco Un bracero Lui usa Questa specie di full misguardo Non so perché Non me la fa Non è possibile Oh Ecco Attacchia E' un totesimo livello Non cambia un pokemon Un pokemon di tipo fuoco Ecco Io utilizzo l'attacco più potente Che ho come detto mille volte Credo che lo possa Distruggere definitivamente E' infatti Ecco qui Distrutto Comunque ora batterò Degli allenatori Credo che io sia fiacco Però ve lo risparmio Questa parte Perché poi si perde troppo tempo Io non voglio perdere troppo tempo Comunque vi risparmio In questa parte Di parlata Ho appena battuto Due bambocci E ora Continuerò L'avventura Pronti? Qua c'è il Ponte Che ci farà Passare Nella prossima Città Una città Inutile Per tutti Perché è proprio Una città Meschina E piena Di disonesti Infatti Sarà proprio lì Dove rivedremo Di nuovo Il team plasma Un'altra volta Ecco qui Il ponte Che cala Guardate che bello Orizzonte che c'è Il ponte cala Cala ancora Cala ancora Cala ancora E si ricongiunge E si ricongiunge E si ricongiunge Infatti Guardate Comunque nella prossima parte Infatti attraverseremo Il ponte E arriveremo Nella città Meschina Infatti ragazzi Ci vediamo Nella Prossima Parte Della guida Di Pokemon White Presentata Da Pink and Kino Quindi ragazzi Qui è tutto Ci vediamo